Sono diventati soggetti politici completi, sono entrati in politica attraverso l'università, studiando diritto, senza passare per la Chiesa. E così, anche per il futuro, non sarà più la Chiesa a far nascere i leader politici neri. I nuovi capi saranno dei rappresentanti usciti dalla competizione elettorale. Questo fa un'enorme differenza. E non soltanto per i neri. E' il Sud in generale che sta cambiando. E non soltanto per i neri. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.